Il Giovedì 17 aprile ore 18, Cinema Tommaso Pendola, un'iniziativa importante che riguarda il Santa Maria della Scala. Il Giovedì alle ore 18, al Cinema Pendola, cerchiamo di condividere con la città un'esperienza che alla Commissione Cultura, al Consiglio Comunale, nel percorso di approfondimento sul complesso museale del Santa Maria della Scala, ha appassionato e quindi riteniamo opportuno non ritenerla un'esperienza esclusiva, ma condividere questo interesse che ci porta a entrare nell'intimo del complesso museale, mettendo a disposizione della città, con un montaggio fatto attraverso un impegno volontario di chi si è trovato coinvolto, di quei documenti, di quei filmati che nel tempo hanno seguito i lavori di recupero e di restauro del complesso museale.